benvenuti nel mio nuovo video oggi vi porto con me ad esplorare la foro della valgana andiamo si dirigiamo verso questo sentiero ecco il cartello con scritto monumento naturale fuori della valgana del pacco regionale del campo dei fiori adesso discegliamo questo sentiero ci teniamo per scivolare dunque sta fuori mano eccoci quasi arrivati di davanti c'è la forra che andremo ad esplorare non ci sono Grazie a tutti Ed eccoci arrivati davanti alla forra La forra è un monumento naturale creato dalla natura E dallo scorre del torrente Valfredda che a milione di anni ha eroso la roccia Guardate qui ci sono dei piccoli di salamandia sul foglio Guardate qui ci sono dei piccoli di salamandia sul foglio Guardate qui ci sono dei piccoli di salamandia sul foglio Grazie a tutti. Sono da solo ma in compagnia della natura e della cosa più bella. Continuiamo la nostra separazione lungo la forra dall'agamme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stiamo camminando lungo il letto del torrente Valfredo in secca. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.